allora buongiorno come vi ho anticipato oggi parliamo di licenze per dati e il titolo è volutamente un po accattivante capirle una volta per tutte perché so che in un evento come questo dedicato al mondo della condivisione dei dati oggi al fosforg si parla principalmente di dati geografici ma non necessariamente geografici io ho fatto ho preparato un seminario sulle licenze per dati to cure in generale che sono a loro volta un sotto insieme delle licenze delle licenze open per per opere creative in senso più ampio il titolo appunto capirle una volta per tutte voleva attirare l'attenzione di colore che magari ci hanno messo le mani più volte ci si sono scontrati hanno dovuto inserirsi magari in progetti o addirittura in lunghi thread in lunghe discussioni su mailing list e su forum su quale fosse la licenza più opportuna o cosa si potesse fare coi dati sulla base della licenza concessa e allora oggi credo di riuscire a darvi giusto una un'infarinatura generale di quelli che sono i problemi che emergono quando si parla di licensing di dati licenziamento dei dati l'argomento a me è molto caro me ne sono occupato ho iniziato a occuparmi proprio per colpa di qualcuno di questa community non posso dire il nome però è una persona che ha appena parlato in un altro seminario che mi aveva anni fa coinvolto in un evento e mi fece io all'epoca mi occupavo di diritto d'autore in senso più classico delle licenze creative commons ma appunto applicate al mondo delle opere creative in senso più tradizionale e non mi ero mai posto la questione del licensing dei dati in sé e parlando di dati geografici mi vennero un po di spunti un po di curiosità e quindi poi decisi di approfondirle a fare degli articoli su questo tema e quindi poi è diventato uno dei miei temi cavallo di battaglia come vi ho anticipato sto riprendendo il video il seminario è diviso in quattro parti ovviamente una propedeutica all'altra quindi faremo una panoramica generale su come funziona il diritto sui dati perché per capire come funzionano le licenze dobbiamo capire quali sono i diritti che la legge prevede per i titolari di i creatori di banche dati e poi arriveremo a parlare nell'ultima parte delle norme su il riutilizzo riuso dei dati pubblici che è un tema anche lì molto molto caro soprattutto appunto a chi non tanto produce dati ma è interessato ad andare a prelevarli da fonti pubbliche a riutilizzarli e tirarne fuori valore niente giusto per due parole su di me nel senso io sono questo qua nel senso che ho preparato ah no devo fare scusate perché sennò poi ogni volta che faccio clic eccolo così direi che è perfetto no ancora un po posso zoomare ok che sennò ogni volta vediamo no ok così dovrebbe essere risolto ecco questo sono io nel senso che trovate molte mie cose in rete chi non ha mai seguito all'occasione di farlo da oggi io sono molto attivo principalmente sulla pagina facebook su linkedin e su twitter che sono i tre i tre luoghi social in cui cerco di fare un po di attività di divulgazione su questi su questi argomenti trovate anche mi trovate anche su youtube con i video delle mie dei miei seminari ovviamente sono video di questo tipo quindi chi volesse approfondire alcuni argomenti che dopo vi segnerò ad esempio sul mio profilo youtube trova dei corsi anche di anche abbastanza lunghi di due tre ore che parlano del diritto d'autore applicato al mondo delle licenze ad esempio open source licenze creative commons ambito della didattica ambito della ricerca open access via dicendo sono un po i miei temi ricorrenti il tema dei dati è trattato avevo fatto nel 2014 un ciclo di tre webinar per la regione lombardia che secondo me erano venuti discretamente bene anche per il montaggio che era stato fatto e quindi quelli lì dopo li ho citati nelle slide li potete andare a rivedere qualora vogliate appunto dal diciamo dal seminario di oggi vi venga qualche curiosità di approfondire fare un passo in più è chiaro che in un'ora adesso abbiamo circa un'ora e quaranta per stare insieme è chiaro che non vi posso dare tutto quello tutto lo scibile trasmettere tutto lo scibile sul licenze dei dati che è uno degli argomenti più noiosi noiosi no scusate gli argomenti più tecnici e complessi del mondo della proprietà intellettuale quindi ovviamente oggi uscirete con degli spunti e un'infarinatura generale però confido che insomma un po di lavoro si riesca a fare segnalo che ecco no in questa slide non c'è c'è anche il mio profilo slideshare sul mio profilo slideshare ci sono già le slide quindi per chi magari è seduto là dietro se le vuole guardare dal suo dispositivo dal computer cerca simone aliprandi slideshare e l'ultimo file che è stato caricato ieri sera prima di andare a dormire sono esattamente le slide che state vedendo vi do anche il liberatorio di fare foto visto che già qualcuno ha scattato qualche foto se volete fare foto fare foto alle slide quello che volete le postate se mi taggate con i vari profili che vedete qua io poi stasera me li riguardo con calma ecco ho fatto anche un libro sull'argomento il fenomeno pendata è del 2014 quindi anche lui su alcune cose è un po superato ma non molto nel senso che la parte introduttiva su il diritto dei dati il diritto la proprietà il diritto proprietà intellettuale nel mondo dei dati è ancora assolutamente buona ancora assolutamente utilizzabile come come riferimento ma poi per chi volesse fare un passo indietro allargare il focus c'è il mio libro sulle licenze creati commons che è abbastanza noto è quello che è stato anche tradotto in inglese in spagnolo in arabo e e poi questo invece del mio amico e collega carlo piana che è più recente dell'anno scorso ormai scusate ormai del 2018 però anche lui è freschissimo e parla dell'openness a 360 gradi molto bello questo è veramente il probabilmente uno delle opere di riferimento per chi è interessato a capire il diritto del mondo open si parla di open nel senso software open applicato ai dati open applicato al mondo della ricerca ci sono delle riflessioni interessanti sulla brevettazione di software con un'ottica anche lui è un giurista un avvocato come me ma ha anche un'ottica molto diciamo di analisi economica del diritto quindi ragionare in un'ottica di sensatezza economica di alcuni istituti giuridici quindi la prima parte è questa la prima parte del nostro seminario licenze per dati capirle una volta per tutti è la proprietà intellettuale sui dati quindi le basi cerchiamo di capire come funziona la proprietà intellettuale sui dati ma innanzitutto vi invito a fare una riflessione sul concetto di dati non ho fatto una slide perché insomma fare una slide per dire avrei dovuto mettere la definizione che si trova sullo zingarello sul devoto olidi della parola dato però una notazione importante soprattutto per coloro che vengono dal mondo più strettamente it quindi gli informatici di coloro che hanno una formazione una matrice informatica quindi penso buona parte di quelli che sono qua presenti in questo evento oggi c'è la tendenza a pensare al concetto di dato come tutto ciò che si può memorizzare su su un hard disk o su una chiavetta no cioè hai salvato i tuoi dati questa classica frase ci fa pensare al fatto che tu abbia fatto backup ti sia salvato tutto ciò che avevi che hai tutti i contenuti che tu hai sviluppato attenzione perché da un punto di vista poi strettamente giuridico dato è un sotto insieme di questa cosa qua cioè di tutto ciò che si può memorizzare su un supporto perché tutto ciò che si può memorizzare su un supporto spesso non sono tecnicamente dati ma sono anche contenuti cioè le foto che io ho realizzato ad un convegno o le foto del mare non sono tecnicamente dati dal punto di vista io parlo dal punto di vista giuridico capisco che per un informatico tutto sia poi trasformato in bit e quindi tutto sia dato allo stesso modo però dal punto di vista giuridico dobbiamo tenere distinto ciò che è contenuto cioè una fotografia un'immagine una grafica un testo un filmato un film cioè quindi un conto è il video che sto realizzando io di questa di questa conferenza e un conto è un film di un autore importante una sceneggiatura queste sono opere creative quindi sono dei contenuti creativi che hanno una tutela diversa che è quella classica del diritto d'autore quando noi parliamo di dati parliamo del dato granulare del dato numerico ok se io vi dico un numero che ne so 1228 1228 detto così non è nulla è un numero ma se io lo associo ad un'unità di misura 1228 metri cominciate a capire che è un dato che rappresenta una lunghezza o un'altezza se lo associo a un'informazione come altitudine sapete che parliamo di qualcosa che sta ad un'altitudine di 1228 metri e se vi dico anche il comune che sta a quel nome del comune che se non ricordo male Bormio è un esempio che utilizzavo Bormio sta a 1228 metri sul livello del mare ecco allora abbiamo completato la nostra informazione sommando quattro dati cioè un dato numerico un'unità di misura il come dire il tipo di dato metà dato che è altitudine e il dato legato al al luogo che dal diciamo a cui è collegato questa questa altitudine ok quindi questa roba di questa roba qui parliamo non della fotografia di Bormio o della fotografia che si fa o del video girato intervistando persone per le strade di Bormio quando parliamo di questa roba cioè del dato crudo del dato singolo dobbiamo ricordarci che il dato in sé non è tutelato da nulla lo dico in questa prima frase della slide cioè tecnicamente non esiste un copyright sui dati cioè io non non esiste qualcuno che possa vietare ad altri di di diffondere questo dato del fatto che Bormio sta a un'altitudine di 1228 metri sul livello del mare è un dato che non appartiene a nessuno chiunque lo può utilizzare lo può diffondere se però io realizzo una una banca dati di tutti i comuni della Lombardia messi in ordine per dal più da quello che sta in un'altitudine maggiore a quello che sta in un'altitudine minore allora ho realizzato una banca dati che è qualcosa di più del singolo dato del singolo gruppo di dati messi in uno scatolone perché perché c'è un lavoro di raccolta aggiornamento validazione dei dati e che secondo la legge viene diciamo porta alla realizzazione di quella che viene chiamata banca dati poi possiamo discutere se sia una banca dati più creativa o invece organizzata secondo dei criteri puramente numerici cioè appunto se io faccio una banca dati come quella che vi ho citato come esempio il criterio è quello puramente numerico cioè anche lì dal più alto al più basso dal più alto al più basso dal più basso al più alto è un lavoro che può fare un qualsiasi file excel lo metto in ordine e quindi non c'è un'attività creativa ma se c'è un'attività in cui un geologo deve classificare le cime delle alpi non tanto sulla base di un dato numerico ma sul tipo di terreno di roccia con cui è costituito questo quel tipo di monte allora ci può essere un'attività che è diversa che è più complessa e richiede un'attività intellettuale più 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 raffinata allora lì si fanno ragionamenti diversi classico esempio che si usa nelle facoltà di giurisprudenza per diciamo mettere a fuoco il concetto di banca dati semplice di banca dati non creativa è l'elenco telefonico l'elenco telefonico è un esempio di banca dati tra l'altro analogica perché è vero che stanno sparendo ormai chi più usa davvero le pagine mia nonna probabilmente userebbe ancora le pagine bianche perché non è capace di andare a cercare un numero di telefono su google o sul sito paginebianche.it però l'elenco telefonico quello che ci lasciano fuori dalla porta ogni tot anni è una banca dati non creativa perché non c'è una scelta intellettuale particolare nella disposizione dei numeri di telefono perché devono essere messi in ordine alfabetico per forza perché sennò la gente non troverebbe il numero di telefono quindi è una disposizione dei dati che è necessariamente non creativa però comunque realizzare un'opera del genere, realizzare un elenco telefonico anche se non c'è un'attività autorale vera richiede un forte investimento e un forte investimento anche nel tenerlo aggiornato e nel validare i dati cioè sapere che tale numero di telefono appartiene ancora a Tizio e Tizio non è ad esempio morto oppure non si è trasferito in un'altra casa e quindi ha abbandonato quel numero di telefono e ha deciso di cambiarlo quello è un lavoro che secondo una direttiva europea del 96 è meritevole di tutela quindi l'ordinamento giuridico in Europa ha deciso che anche le banche dati realizzate con criteri non creativi sono meritevoli di tutela perché c'è un forte investimento e questo è un po' il senso del diritto di cui parleremo oggi cioè tutte le licenze, le cosiddette licenze per dati non sono licenze per dati, sono licenze per banche dati ok, cioè ciò che viene licenziato è l'insieme di dati poi vedremo che il diritto sui generis in realtà questo diritto che tutela le banche dati secondo la direttiva europea del 96, che è la 96, vedete la direttiva 96.9 CE è un diritto che copre l'estrazione di parti sostanziali di questo database da parte degli utenti quindi è vero che non sono coperti i dati in sé però se io comincio a estrarre massivamente parti di questo database allora vado a toccare, vado a infrangere questo diritto che la legge riserva a coloro che hanno fatto le banche dati quindi, in sostanza, non è una questione puramente di lana caprina però vi invito a essere precisi nella terminologia anch'io ci sono cascato perché ho intitolato le licenze per dati in mio seminario non l'ho intitolato le licenze per banche dati però volevo essere efficace nel titolo e fare una cosa un po' più comprensibile però sarebbe più propriamente le licenze per banche dati quindi a ben vedere non sono i dati in sé ad essere tutelati ma le banche dati o database se vogliamo usare la dicitura anglosassone in altre parole i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione in quali termini? adesso vi faccio vedere questo è il contenuto del cosiddetto diritto sui generis per le banche dati perché si chiama diritto sui generis? non è una mia trovata è l'addizione della scelta proprio della direttiva europea che tutti poi i stati membri dell'Unione Europea hanno adottato perché quando si è deciso di creare questo diritto era un diritto talmente nuovo e diverso rispetto agli altri diritti preesistenti cioè le due macro categorie dei diritti d'autore di utilizzazione economica e dei diritti connessi che non poteva essere associato né all'uno né all'altro allora è stato definito diritto sui generis del costitutore di banca dati infatti come vedete lo dico in questa slide scusate lo dico in secondo punto qua il titolare del diritto non è l'autore della banca dati ma più propriamente il costitutore della banca dati perché se noi lo chiamassimo autore staremmo anche dicendo che lui ha fatto un'attività creativa autorale invece come abbiamo detto non è un'attività creativa ma è un'attività compilativa di raccolta e organizzazione e aggiornamento del dato poi come vi dicevo ci sono anche le banche dati anche quelle creative faccio un esempio estremo voglio fare una banca dati di quadri un museo un museo che vuole fare un sito web con una banca dati di tutti i quadri che ha nel suo catalogo e chiama Filippo D'Averio a fare la banca dati ci mette il nome Filippo D'Averio perché organizzerà la banca dati non tanto secondo le date in cui sono stati creati i quadri o secondo il nome il nome il titolo ma secondo gli stili le scuole secondo i soggetti ritratti ok quella roba lì è già diverso dal fare l'elenco telefonico dal fare la banca dati delle cime delle alpi ok quindi questo è il confine ma visto che qua siamo a un evento che tratta dall'aspetto dei dati geografici siamo quasi sempre nel campo delle banche dati passatemi il termine eccessivo le banche dati ignoranti le banche dati in cui chiunque riesce a schiacciare un tasto e a metterle in un certo ordine chiunque sapendo un minimo conoscendo un minimo di informatica saprebbe realizzare l'ordine ma infatti la tutela non sta tanto nel criterio in cui vengono ordinati i dati ma nello sbattimento nello sforzo del raccogliere questi dati e tenerli aggiornati il rilevante investimento quindi il titolare del diritto sui generis non è l'autore della banca dati come sarebbe nel caso di Filippo D'Averio o Vittorio Sgarbi che fanno la banca dati dei quadri secondo i criteri quindi secondo i stili quindi secondo un criterio scelto da loro ma secondo dei criteri necessitati e quindi è colui che fa l'investimento viene chiamato costitutore e quindi questo diritto era chiamato sui generis perché in effetti non tutelava gli autori ma tutelavano dei soggetti diversi che fanno un lavoro diverso rispetto a quello classico del diritto d'autore e quindi è stato classificato come diritto separato effetto del diritto ecco quello che dicevo prima cioè viene tutelato lo dico in questo terzo punto della slide viene tutelato vengono tutelate le attività di estrazione e riempiego di parti sostanziali della banca dati vuol dire che il titolare cioè questo costitutore ha la possibilità di vietare o di autorizzare l'estrazione e il riempiego di parti sostanziali della banca dati ok l'altra poi ecco possiamo stare qua a parlare per 20 minuti di cosa si intenda per cosa si possa intendere per parte sostanziale di una banca dati stesso problema arriva col software quando si parla di copyright sul software in un software che è composto da 10.000 righe se io copio 30 righe ho violato il copyright o quelle 30 righe sono una parte così irrisoria che non possono arrivare ad assurgere a opera creativa e quindi il titolare del software non si può più di tanto inasprire oppure quelle 30 righe erano proprio quelle più importanti in cui il software aveva quel che di distinto di distintivo di valore che lo faceva distinguere appunto dagli altri software che fanno la stessa cosa ma lui la fa meglio degli altri io sono andato a copiare proprio quelle 30 righe capite che siamo su dei crinali su dei confini a volte molto delle aree grigie che purtroppo necessitano l'occhio dell'esperto cioè è difficile in un seminario come questo darvi dei parametri e delle categorie secche nette però ecco questo è un po' il concetto viene coperta l'estrazione e il riempiego di parte sostanziale delle banche dati e anche la durata del diritto è diversa rispetto agli altri diritti il diritto d'autore dura 70 anni dalla morte dell'autore l'avrete sentito qualche volta il diritto sui generis dura 15 anni dalla messa in commercio della banca dati in realtà avrei dovuto essere più preciso dalla messa in commercio della banca dati e da ogni attività di aggiornamento sostanziale della banca dati vuol dire che ogni volta che la banca dati viene aggiornata il copia si sposta avanti di un anno cioè praticamente sì non abbiamo grazie a questo questo principio abbiamo creato un diritto che dura in eterno perché perché se le banche dati vengono messe online il titolare della banca dati anche se non fa una vera attività di aggiornamento ma semplicemente fa un controllo una validazione dice sì io ho guardato ed è ancora buono così com'era lui sposta il copyright di un anno quello che succede con i siti web i siti web ogni volta che vengono aggiornati tu dici vabbè 2019 2020 vuol dire che 70 anni non passano mai la stessa cosa succede con i 15 anni cioè è vero che i 15 anni sono brevi ma essendo le banche dati quasi sempre fruite in questa forma in realtà non cadono quasi mai in pubblico dominio per avere una banca dati che sia effettivamente caduta in pubblico dominio dovete andare a recuperare la copia che era stata distribuita nel 2014 scusate nel 2004 perdonatemi oggi siamo nel 2020 quindi il primo gennaio del 2020 sono cadute in pubblico dominio le banche dati diffuse e non più aggiornate non più modificate nell'anno 2004 io come avvocato in quegli anni avevo le banche dati giuridiche so che per voi è un mondo nuovo inesplorato però noi avvocati usiamo per la nostra attività le banche dati di giurisprudenza o di leggi sono delle raccolte che gli editori fanno con i testi di legge e le sentenze non è certo che siano delle banche dati non creative perché a volte c'è un'attività di organizzazione molto complessa ma ipotizzando che sono delle semplici raccolte di leggi se voi avete il DVD-ROM o il CD-ROM del 2004 quello è effettivamente la banca dati caduta in pubblico dominio ma se invece la banca dati identica viene messa online e l'editore ogni anno l'aggiorna non arriveremo mai ai 15 anni perché ai 15 anni si spostano sempre in avanti quindi anche altra particolarità di questo diritto e questo è quello che succede ovvero l'effetto del diritto sui generis è questo qua abbiamo il primo step quello lì a sinistra l'abbiamo detto non c'è nessuna tutela sui semplici dati sulle semplici informazioni che il Monte Bianco sia alto 4.400 metri sul livello del mare è un'informazione che non appartiene a nessuno tutti la possono utilizzare e tutti la possono la possono riprodurre nel momento in cui invece realizzo un database non creativo sono costitutore di questo database e quindi ho solo il diritto sui generis se però ricado nell'esempio che vi ho fatto prima la banca dati dei quadri organizzata secondo un criterio particolare ma anche in campo scientifico cioè la banca dati dell'inquinamento delle varie aree del Mediterraneo fatta con dei carotaggi delle spiagge in un certo modo lì c'è un'attività che non è solamente mettere in fila dei dati ma c'è un'attività anche di modellazione arrivare a misurarlo quel dato allora lì entriamo in un altro trip in un altro thriller perché? perché c'è un'attività intellettuale che probabilmente trasforma questo database in database creativo e quindi si sovrappone anche il diritto d'autore in senso pieno ma dello scienziato che ha deciso come strutturare misurare e organizzare questi dati perché lo stesso lavoro dato diciamo affidato ad un altro scienziato che ha un altro tipo di preparazione probabilmente avrebbe portato ad un risultato diverso ok? quindi senza essere Filippo D'Averio o Vittorio Sgarbi anche in campo tecnico scientifico si può avere una banca dati che è coperta sia da diritto sui genesi che da diritto d'autore allora lì i due diritti convivono praticamente c'è il diritto sui genesi che copre l'estrazione di parti massive parti sostanziali scusate della banca dati e il diritto d'autore che copre le copie il copyright in senso più classico sulla banca dati in sé e quello dura 70 anni dalla morte dello scienziato o dell'esperto che ha realizzato la banca dati quindi lì tanti auguri oltre ai 15 anni della banca dati che già abbiamo spiegato oltre ai 15 anni del diritto sui genesi che già abbiamo spiegato che non finiscono quasi mai abbiamo i 70 anni dalla morte dell'autore quindi 70 anni dalla morte dell'autore vuol dire che possono diventare 140 cioè se un autore fa una cosa a 20 anni e campa fino a 90 si contano i 70 anni della sua vita più i 70 anni ulteriori dalla sua morte quindi sono praticamente dei diritti che non finiscono mai questo è in sono 20 minuti che sto parlando poco più di 20 minuti e vi ho dato veramente in un in un mega concentrato il concetto base della tutela delle banche dati se volete approfondire appunto c'è un mio video su questa roba qua c'è un mio video di un'oretta circa quindi va un pochettino più a fondo sulla tutela delle banche dati però in una sede come questa mi sembra che possiamo ritenerci soddisfatti interrompo il video così poi abbiamo i video separati se avete domande su questa parte direi che è meglio farle ora ora